Ops a tutti, miei cari upsini, upsine, come state? Spero molto bene, dai. Oggi, come potrete vedere, farò un video pieno di mouth sounds. L'inizio con questa copertura, più avanti la toglieremo magari. Sono anche leggermente più vicino alla telecamera, fatemi sapere se vi piace. Ok, dai, senza dire altro, indosso un paio di cuffiette, o cuffie più grandi. Stenditi sul tuo letto e chiudi gli occhi, va bene? Quindi io direi di cominciare subito. Non voglio più fare delle intro troppo, troppo lunghe, perché magari la gente poi si stufa di vederle. E quindi cercherò di partire più in fretta col video vero e proprio. Ciao, ciao. e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info che bello non clicchi anche oggi che bello non clicchi anche no buh 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. no no io mi liberto un sacco di giusto per il video però quando passano troppe macchine poi mi fanno arrabbiare e quindi non sono più felice no 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 Spera di essere a posto con le luci. Ah, una cosa che volevo chiedervi è fatemi sapere qui sotto nei commenti che video vorreste vedere sul canale, datemi delle idee perché ogni settimana faccio un po' difficoltà a trovare cosa pare. Ci sono quei mesi dove ho 4-5 video programmati che voglio fare, quei mesi dove ogni settimana veramente devo stare lì a cercare cosa potrei fare. La brombosecchina ... ... No, super, mi vero, tu pari Alla prossima crcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcr Sono troppo felice perché si sta avvicinando il Natale Mi piace tanto, tanto, tanto il Natale Forse per me decorerei casa in te natalizio già da testa Già da novembre No, 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 no mi profe l'orecchio ok 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 io penso che il momento di a dirti la pulata a te a te, a te, tocca a te, quindi iscriviti al canale se sei nuovo, per entrare a far parte dell'Obs community diventare un'Obsina se sei un maschietto e un'Obsina se sei una femminoccia, lascia poi anche un bel like e un commento mi piace veramente tanto ricevere i vostri commenti, quindi se vi capita fatelo, non abbiate poi paura perché il mio canale è un posto sicuro perciò scrivete tutto quello che volete, ovviamente senza insulti o cose brutte poi il mio video purtroppo finisce qua, spero che ti lascio come al solito, qua il mio video precedente, qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai magari non a tutti piacciono i Maud Sounds, perciò ho fatto tantissimi altri video sul canale cerca quello che ti ispira di più ok dai, io adesso ti saluto con un bel bacio e noi ci vediamo al prossimo video, va bene? buonanotte buonanotte